e ciao a tutti bentornati sul mio canale pesca ita oggi non siamo in una live novità perché mi hanno detto che si vede male e che va a scatti quindi io ci tengo che si vede bene e che si capisca tutto bene soprattutto allora oggi vi spiego perché appunto non sono più usciti video da sette mesi il motivo è che in un mese nel mese di marzo ho capottato due in totale tre volte due in che però ci sta ecco nel senso ci sta dico che ci sta perché erano le mie prime due volte e quindi non ho ancora esperienze diciamo soprattutto nella mira che nel feeder è molto ma molto importante la precisione e la terza volta in po che ho preso due bei barbie ma li ho amati ecco quindi essenzialmente questi sono i motivi ecco come ben saprete io do sempre il mio meglio e cerco di applicare tutto quello che so per la riuscita di un buon video a volte questo non funziona nel senso perché la pesca in fiume poi non è proprio così semplice e purtroppo succede sono cose che succede succede di capottare penso che anche a voi sia successo però il domenica prossima penso che ci sia bello vado in po e cercherò ancora di prendere senza capottare ovviamente a vedo tm 30 bene cos'altro dire di video cos'altro dire cos'altro dire cos'altro dirvi niente essenzialmente niente questo è il motivo ma sono mi è venuto in mente ora che sono contento perché siamo arrivati su instagram 440 follower e più 441 sono molto contento continuiamo così anche su youtube come ben saprete chi mi segue lo sa di voi che devo cercherò di arrivare ai 500 iscritti ecco entro la fine dell'anno ecco così penso di farcela mi impegnerò sempre di più e ve lo prometto cercherò anche di migliorare la qualità di video come sempre dico piano 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 però con calma ce la farò niente detto questo vi dico anche che qua sotto in descrizione trovate il link del mio gruppo telegram qua sotto quindi vi aspettiamo in numerosi mi raccomando e sempre catch e raise mi raccomando niente detto questo vi invito a mettere mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale iscrivetevi perché potete sempre aggiornarti sui futuri video e presto ne usciranno ecco grazie a tutti per l'attenzione un saluto a tutti sempre catch e ciao ciao grazie a tutti